In collegamento telefonico abbiamo lo psicologo, nonché criminologo, Sergio Caruso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno Sergio. Partiamo subito. Parliamo infatti del corso di formazione teorico-pratico per operatori di accoglienza delle vittime di violenza. Le norme sono cambiate, infatti ora parliamo di codice rosso e a Paola il 20 e il 21 di dicembre si terrà, come detto, questo corso di formazione. Sì, carissimo Martino, l'esigenza di un territorio, ma anche l'esigenza nazionale, quella di ripartire per arginare il grande fenomeno della violenza di genere e in genere, è quello di ripartire dalla prevenzione e dalla formazione. Perché un limite, un gap, che purtroppo incide indirettamente su tanti casi, è che molti operatori non sono adeguatamente formati a frondeggiare questa evenienza, questa emergenza. Il nostro corso, appunto, come diceva, è teorico-pratico, è un'infarinatura perché è collegato poi al Master di Criminologia della Calabria, per chi volesse diventare uno specialista della materia, offre degli spunti di informazione e anche di riflessione. È organizzato dal CIF provinciale, diretto dalla dottoressa Concetta Grosso e dal Master Criminologia della Calabria, che dirigo, con il supporto logistico del CIF di Paola, diretto dalla dottoressa Maria Pia Serranò. E anche il Comune di Paola è stata abbastanza pronta ad accogliere la nostra iniziativa e a fornirci gratuitamente una sede per accogliere tutti. Ecco, ed è quindi importante che tanti seguano, anche perché, come hai detto, poc'anzi, molti operatori sono impreparati e magari fanno danni in tanti casi, no? Certo, perché non ci possiamo permettere di essere approssimativi. Questo è un lavoro che non può rientrare più nel quadro del volontariato, ma deve rientrare in un'ottica di un intervento specifico, mirato e soprattutto professionale. Benvengano i volontari, ma devono essere volontari operatori formati che affianchino professionisti altrettanto formati, in cui bisogna intervenire su tanti ambiti, sulla prevenzione, sull'intervento, sugli ambiti psicologici e anche sugli ambiti forensi, alla fine. Però deve essere un lavoro a 360 gradi, come una grande catena di distribuzione, in cui ogni pezzo, ogni ingranaggio deve essere ben collegato, perché noi dobbiamo tutelare appunto le vittime in tutti i suoi aspetti. Tante volte ci sono degli operatori invadenti, abbiamo letto in alcuni casi, e questo logicamente intimorisce anche le donne che magari hanno bisogno di aiuto e di sostegno. Sì, lungi da me fare delle critiche a taluna categoria professionale, però posso dire che purtroppo ci sono e posso dire, come giustamente dicevi, che molti operatori, molti professionisti pensano di lavorare attraverso il buonsenso. Il buonsenso non basta, ci vuole una formazione, infatti il nostro corso, che dura 10 ore, sono due giorni di formazione, dà degli input, degli spunti di riflessione per incanararsi verso la strada giusta. La strada giusta è la formazione continua, una formazione che coinvolge varie figure, infatti noi siamo stati accreditati con 10 crediti formativi dall'ordine regionale degli assistenti sociali, perché appunto anche loro sono impegnati in questo ambito, ma il nostro corso è aperto a tutti, è aperto anche alle persone non professionali, non professioniste, che vogliono ascoltare dell'informazione e perché no, essere utili attraverso i nostri sportelli di informazione come operatori, come volontari, e perché la sfida sociale contro la violenza sulle donne deve essere un impegno di tutti e c'è bisogno di tutti. E allora Sergio, in chiusura ricordiamo l'appuntamento? Sì, allora aspettiamo tutti gli interessati venerdì dalle 15 alle 20, aspettiamo anche il sabato 21 dalle 9.30 alle 15, alla fine ci sarà la dimostrazione di arti marziali di difesa personale specifica per le donne come prevenzione agli abusi tenuti dal maestro di arti marziali Guido Pinto e successivamente si chiuderà con un coffee break e la consegna degli attestati. Vi aspettiamo perché la sfida contro la violenza deve essere un impegno di tutti.